Ciao a tutti e bentornati su Fortnite, ma guardate cosa c'è la nuova stagione, stagione 3 capitolo 5 mi raccomando lasciate il like e iscrivetevi al canale, siamo lì da soli contro squadre EasyMount e andiamo a scoprire le differenze di questa nuova stagione andiamo al Nitrodo, no, dove è che sto andando? al Pozzo Purpureo, vabbè, allora innanzitutto qua non ho capito bene come funzionano gli incarichi giornalieri se l'avete capito scrivetelo nei commenti, ma forse vuol dire che si possono fare qualsiasi di questi boh, mi trovo un po' confusionare, comunque iniziamo con esaminare, niente, perché non c'è c'è che qui mi stanno attirando vicino subito c'era un incarico di esaminare una cosa prima di essere colpito, ma non so se è riuscito c'è sto fucile, fucile pesante da Combattimentos, mamma mia, qua come scendo? speriamo che non ci si sfracelli, necessito di armi buone, ecco perché qua, ecco qua subito la tempesta che rompe le scatole, porca vacca, allora devo seccare il boss di quartiere che ho già visto che è un po' ostico, mi si stanno già seccando qua sotto, non avrei molto tempo, scusi eh, vado a fare un giro, vado a fare un giro, vado a fare un giro, anche tu eh, oh ho sbagliato, ok, vediamo seccare il nemico, ancora vivo? e questi sono messi contro, terribile, no, dove cacchia? a chi stai spando, amico? si è sentita poco bene, oh le granatigne, dov'è il nemico qua? number one? deve essere qua sotto secondo me, o forse sopra? comunque mi devo troppo muovere, ovunque sia, orche puzza, allora questo c'è il milino però, arriva la tempesta, dai dove cacchio è? e abbiamo comunque 5 kill, vediamoci un po' di munizioni, nella scorsa partita che non ho registrato, dove cacchio sei? forse qua? forse qua? dai dove sei? se ti sei cos'è? ecco 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 ti cacchio dato che spara tanto sta roba no no va bene il gietto no ooo allora ho visto adesso non ero tu? mi sta arrivando la tempestia dove cacchio sei? ecco ti uuuu dico io ah ah è andato che cacchio hai fatto? Muoviti! Muoviti! Dov'è la sua arma? Non romperla! Cacchio, che lento! Ecco la sua arma! Ce ne andiamo, eh! Possibilmente, senza sfaccellarsi! Faccine d'assalto! Potentissimo! Bene che ci sono anche sti rovi, ma attenzione! Vuole che esplode sto rovo! Vai! Via! Ok, abbiamo anche il primo scudo, che non so esattamente cosa serve, ma ok! Allora, lì non ce la facciamo! Potremmo provarci, ma... La vedo dura! È troppo carino con questa ambientazione da Mad Max! C'è anche un incarico in cui bisogna passare qua sopra! Facciamolo, ma da sto lato perché c'è... Questa tempesta è troppo invasiva! Carino sto... Quindi praticamente ti dà una sorta di... Super velocità! Il treno ricoperto di sabbia! Spettacolo! Comunque che brutto! Che cacchio! Questa tempesta è troppo invasiva! Vai così! Ohhhh! In realtà le munizioni mi servivano perché qua non c'è un cacchio di niente! Quindi, quando ci sono fatti? L'amore! Questa è la sua! Questa è una cacchio di metallo! Vai così! È un errore! Che è un uomo! È un uomo! È un uomo! Ok! È un uomo! attenzione, 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 dove cacchia siete, è che sta arrivando anche la tempesta rompere le scatole, ti devi da muovere, vai, eccolo qua, ah questo è quello della balestra, fa malissimo, ma se riesco a prenderlo, come è che accanto è tu, aspetta anche qua, va bene tutto, non ve ne un cacchio, no, è stato sto super sparo, perché mi ha fatto malissimo, per il fatto che c'è una tempesta che mi sta uccidendo, maledetto, no, muoviti, di questo, class balestros, e via, guarda che se non riesci a scappare sei morto, non voglio finire così la mia battita, vuoi di nitro, double nitro, sai che forse, forse ti salvi, sì, dai, perché non arrivi subito un'altra tempesta a seccarmi, se farmi un po' i cacchini fino a che non recupero l'energia, e via, basta fiatente, attento, come tutti qua in giro, ma che bello, c'è anche l'acqua, il potere dell'acqua mi manca un sacco, tra parentesi, ma l'incarico che vai dentro per fare l'altro nit, tre volte, grande, ah questo era per riparare, vediamo se funziona, no, non era questo, arca puzzola, allora, se tu fai questo, mette questo, no, non sei tu, evidente potevi modificare il veicolo, ma non è questo un veicolo, giusto, comunque, mi serve qualcosa per l'energia, se non vi spiace, se non vi spiace, adesso mi sono tornato in munizione infinite, non ho capito sta cosa, forse il medaglione l'ho preso, che non è niente, ma è come potere, allora, abbiamo due medaglioni, una macchinista, una scarma, una scarma, mattatrice, va bene, e niente, adesso andiamo a seccare chiunque si faccia vedere, carini sti rovi, oh, finalmente una zona nota, si trinca, adesso faccio vedere il potere della balestra, eccolo qua, si, potere di non beccare nessuno, eccolo qua, occio, ho preso, e anche sopravvissuto con la bella strada, ecco quello che mi serviva, vi lascerei giusto a caccata di fucile, per questi guanti, allora, questi, nella scorsa partita, li ho presi anche dorati, seccando, comunque sostanzialmente, consentono una combo di cazzotti, è un po' difficile però, beccare la gente, tuttavia c'è un super cazzotto, che dopo vi faccio vedere se riesco a trovare qualcuno, che non è niente male, ecco lì, non sarà una gara di kill sta partita, eh, boh, no, che disastro sta zona, vedete che casino, non è che sia semplicissimo per cazzare qualcuno con questo potere, ho sbagliato, dov'è? vai, 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 calmatevi, qui, tu hai usato, aspetta, aspetta, calmatevi, ci riprovo, ok, più o meno, sono riuscito a colpire qualcuno con questa mossa, fanno un po' cacare questi guanti, secondo me, vediamo cosa si può trincare questo, questo fucile, vedete, al posto di questo, che ha una balestra, questo l'ho anche capito cosa serve, comunque, tu, 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 vabbè, aprire le cose, comunque vi dà i punti, aprietevi anche se non vi servo, anche l'oro va preso inizio stagione, ora che ci penso, un po' di oro fa sempre bene, strano che adesso non si rompe sotto, che cagata hanno fatto, è così bello, rompevi sotto e facevi qua, comunque, vediamo se c'è qualcosa che mi serve, ce l'abbiamo, ehi, dove cacchio vai, ehi, c'è la tempesta, già, veramente, andate sempre dritto, attenzio, attenzio, almeno 20 dobbiamo arrivare, comunque, vai, qui, guarda, infatti, veramente, casino, che era malo, strato, credo che prima avevo qualche altra arma più patente, inizio, che casino fai, mi state facendo male, e si va a scaricarlo ma porca si è un babbo nuovo livello con musica rock forse i muniziari a prendere non è che serve molto c'è un nitro c'è un nitro danneggia gli avversari con la nitro oh, ciò che qua c'è gran casino questo è tuo, vero? si capisce un cacchio dove siete? uno è oh, sai cosa c'è? credo adesso te ne fai a casa sai volare per caso? spero di sì, ragazzo no, mi sa che ero un no una porca puzza salio un oro ma possibile che gli manchi questi sono tutti oh, occio ne mancano cinque ah, vai che cacchio è? un super pro oh, oh quanto possibile tutte queste botte che ha preso? oh, calmiamoci calmiamoci eccoli guarda i doppi danni oh, la tempesta ma che babbo sei ti fai tempestare così aspetta devi uscire giù questa, sai mi mancano tre dove cacchio sono? eccolo lì uno che sta correndo al riparo se gentilmente ti curi attenti ho visto che sei andato più meno di là attenzio, attenzio non sono amici sayonara ebbene la prima win easy nella nuova stagione che cosa mi pare di questa stagione? se vi piace lasciate il like metti i tracchili, va bene? dai, è un po' da scoprire un po' strano un po' delicato ai motori e c'è anche la possibilità di mettere una mitragliatrice una macchina carino, dai se vi video vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale eccetera 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 bella lì ciao